Dal ripristino della Guardia Medica di Montecchio alla viabilità per raggiungere i posti di lavoro. Sono questi alcuni dei temi trattati dal Presidente della Regione Marche, Acquaroli, e l'Assessore alle Infrastrutture Baldelli, che mercoledì hanno fatto visita al Sindaco di Vallefoglia, Palmi Rucchielli. Abbiamo fatto un po' il punto sulle principali questioni della città di Vallefoglia. Innanzitutto il potenziamento della Casa della Salute e la necessità di avere un'attenzione a questo centro di coesione sociale importante per tutta l'area, non solo per Vallefoglia, che si sta realizzando nel Comune di Vallefoglia. In secondo luogo la questione di politiche attive per il lavoro, quindi il rafforzamento del punto in formazione del lavoro e delle attività della formazione nel rapporto con le imprese per formare le persone che trovano lavoro. In terzo luogo il sistema viario infrastrutturale della mobilità, più in funzione dei posti di lavoro. E poi le questioni che riguardano il potenziamento della piscina di Pian del Brusco, che non riguarda solo Vallefoglia, il ribostimento della scuola Medi di Pian del Brusco, tutti i temi importanti che ho fatto presente. Spero che abbiano tutta quell'attenzione, in particolar modo sul potenziamento della Casa della Salute, che è la prima cosa che probabilmente riusciremo ad avere quella attenzione necessaria che merita un territorio come questo. Vallefoglia è la terza città della provincia di Piso Urbino, dopo Piso Refano, ed è nei fatti capofila di un'area, perché comunque attorno al municipio nuovo, alla Casa della Salute, e ruotano tutti i comuni confinanti.